Bonus facciate, scoperta, maxi truffa per oltre 85 milioni di euro in crediti fiscali, ora sequestrati dalla Guardia di Finanza con la Procura di Treviso, che ha indagato a vario titolo 20 persone. Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, con altre sparse in tutta Italia, tra le province in cui risiedevano i truffatori, per lo più dall'est Europa e Nigeria. Indagine ancora in corso e partita nel 2021, grazie a una segnalazione di un'impiegata delle poste centrali del capologo trevigiano, insospettita dall'ingente richiesta dell'apertura di partite IVA per società che si è scoperto essere per lo più fittizie di giovani dell'est. Aprivano conti correnti con poche migliaia di euro che misteriosamente centuplicavano nel giro di pochi giorni. E che avevano comunicato di aver eseguito in tempi brevissimi, in tempi strettissimi, lavori per diversi milioni di euro. Ovviamente questo è un dato strano, anomalo, che ci ha consegnito di avviare dei primi riscontri. Tra gli italiani indagato è anche un noto commercialista settantenne trevigiano, già con precedenti per truffa, Giorgio Scarso, di San Biagio di Callalta, con studio a Ponte di Piave. Ieri la visita inaspettata dei finanzieri. Per verificare se alcuni sono clienti del mio assistito, o se non sono clienti, o quali sono i documenti relativi a queste società. In ogni caso, lui è completamente strano a questi fatti. Attivati i canali di cooperazione internazionale per tracciare e sequestrare i proventi dei reati commessi e inviati all'estero, per eludere o ostacolare gli accertamenti. Appunto disporre questi provvedimenti di sequestro sulle somme e sui beni che sono stati illecitamente conseguiti e che, ricordiamolo, hanno provocato un grave danno alle casse dello Stato.